E salve a tutti, parliamo dell'Europa a due velocità, sempre nel 1600. Tra il XVI e XVII secolo, dopo aver aperto nuove vie per gli scambi con Asia e dopo aver scoperto e in parte colonizzato l'America, l'Europa diviene sempre più il continente protagonista del commercio mondiale, sfruttando a proprio vantaggio le risorse di terre lontane che cosa succede? Non tutti i paesi però europei ebbero lo stesso ruolo anche perché la crisi economica e sociale del 1600 non colpì allo stesso modo tutte le aree d'Europa. Nel corso del 1600 la Spagna e il Portogallo, protagonisti delle prime scoperte geografiche, si indebolirono e nella lotta per i mari si impose l'Inghilterra che diviene la più attiva potenza commerciale insieme all'Olanda e alla Francia. A metà del XVII secolo e per tutto quello successivo l'economia europea viaggiava a due velocità. Da una parte una vasta area di paesi più poveri che fondavano la propria economia quasi esclusivamente sull'agricoltura, dall'altra un'area di paesi più ricchi attivi nei commerci internazionali, proiettati verso un'agricoltura moderna dell'avanguardia nelle prime produzioni industriali. Un sud dell'Europa che non investe in commerci e attività produttive, la Spagna e i paesi ad essi legati come l'Italia subirono i peggiori effetti della crisi economica del 600. In Spagna, che rappresentava ancora un'importante potenza militare, non esisteva una borghesia attiva e produttiva e non erano state sviluppate attività agricole e manifatture avanzate. Anche gli stati dell'area germanica, debole e inframmentata, erano in gravi difficoltà, soprattutto per via delle devastanti conseguenze della guerra dei Trent'anni. Gli stati dell'Europa centrale e orientale, come l'Austria e degli Asburgo, l'Ungheria, la Polonia e la Russia, si erano da poco liberati dalla pressione dei turchi. La classe dirigente era però costituita dalla nobiltà feudale. di dei grandi proprietari terrieri, poco interessati a investire nell'ammodernamento delle culture dei commerci e nella produzione industriale. Inghilterra e Francia si contendono l'espansione coloniale. L'Inghilterra era la potenza economica in maggiore espansione dopo aver vinto l'ostilità della Spagna e di Filippo II aver reso insicure le rotte commerciali spagnole e portoghesi con le navi corsare, pirateria legalizzata. Il paese mise in atto una vasta opera di colonizzazione dell'America settentrionale e assunse un ruolo guida nei commerci per mare. La Francia, a sua volta, faceva concorrenza all'Inghilterra nelle colonie americane attraverso il controllo del Canada e della Louisiana, colonie francesi, come vedete nella cartina. La Louisiana poi fu acquistata come territorio dall'Inghilterra nel 1803 e quindi i mercanti francesi inoltre facevano buoni affari nelle piazze commerciali poste in India e in altre regioni asiatiche. La Francia poteva poi contare sulle risorse interne un'agricoltura moderna e sviluppata in manifattura, sostenute dallo Stato e difese dalla concorrenza estera attraverso politiche protezionistiche. Ben presto lo scontro tra Francia e Inghilterra divenne inevitabile e fu uno dei motivi delle guerre europee. La prima metà del Settecento, quindi vediamo qui un territorio ancora spagnolo, la Louisiana appunto acquistata agli Stati Uniti nel 1803 e poi l'altra parte dei territori che sono in parte spagnoli, in parte confederazioni di stati. Poi sappiamo che appunto ci fu la rivoluzione americana contro l'Inghilterra a sua volta. Olanda è il paese più piccolo ma molto attivo. L'Olanda era un paese piuttosto piccolo che da poco aveva conquistato l'indipendenza. Grazie al suo sistema politico all'avanguardia era una repubblica guidata dalla borghesia dei commerci e delle città. Ebbe un ruolo decisivo nell'organizzazione del commercio mondiale dell'epoca. Le decisioni politiche venivano prese da consigli provinciali e da un consiglio generale con sede ad Amsterdam. L'Olanda riuscì a fruttare al massimo le proprie risorse, un'agricoltura moderna, l'allevamento dei bovini, canali navigabili e porti famosi come Amsterdam e Rotterdam che ospitavano una forte marina commerciale. L'Olanda pertanto entra in concorrenza con l'Inghilterra. Nel 1602 i mercanti olandesi fondarono la Compagnia Olandese delle Indie. La Compagnia delle Indie erano grandi organizzazioni di mercanti e imprenditori che godevano della protezione dello Stato e avevano il diritto di armare una flotta militare, ruolare un esercito e dirigere fortificazioni, fare guerre, concludere trattati, conquistare territori e amministrare colonie. Nel corso del Seicento la Compagnia Olandese fondò basi commerciali in Indie e in Africa meridionale e soggettò progressivamente l'attuale Indonesia, una regione ricchissima grazie al commercio delle Spenze. Gli enormi interessi commerciali misero in contraposizione l'Olanda e l'Inghilterra e cercarono di danneggiarsi a vicenda. I due paesi si resero conto tuttavia che il conflitto tra loro non poteva che avvantaggiare la Francia, ovviamente, e quindi trovarono un accordo stipulando trattati commerciali che riconoscevano entrambi i diritti esclusivi su alcune aree del mondo. L'alleanza di fatto tra queste due potenze si rivelò vantaggiosa per entrambi e permise loro di imporsi con maggiore forza sugli Stati concorrenti. Nell'Oceano Atlantico si sviluppa il commercio triangolare importantissimo, come vedete. Oltre a estendere i traffici con Asia, le compagnie commerciali in Inghilterra, Olanda e Francia furono le protagoniste di un intenso flusso di scambi nell'Oceano Atlantico tra Europa, Africa e America, detto commercio triangolare. Le navi europee salpavano dai porti francesi, olandesi e inglesi cariche di manufatti, lavorati dall'industria di quei paesi, stoffe, tessuti, armi e attrezzi, ma anche liquori, tabacco lavorato e beni di lusso. In Africa i mercanti europei scambiavano le loro merci con schiavi neri catturate all'interno del continente. Nel nuovo mondo gli schiavi venivano venduti o scambiati con altre merci, soprattutto con preziose materie prime, legname, metalli pregiati, prodotti agricoli locali, zucchero, caffè, tabacco e cotone. Spero di avervi incuriosito ulteriormente perché ci sarà un prossimo video sulla decadenza dell'Italia e Masaniello. Grazie per ora per l'ascolto, alla prossima!